Pronto, Schnell? Angelica Schnell è un detective di successo Una mamma di successo E avrebbe successo anche con gli uomini Se nella sua squadra non ci fosse anche l'ex marito È tutto chiaro? Bene Il motivo per cui io sono il capo è che non so sempre più degli altri E voi, prendete esempio? Fast Forward Da lunedì al venerdì alle 17.20 su Fox Crime Grazie